Gentili telespettatori, buona giornata. De Luca non ci può pensare alla figuraccia che ha fatto a Caivano, brutta figura, e allora è già la seconda accusa che fa la Meloni oggi. La prima questa mattina dice che la Meloni dire buongiorno presidente sono quella strana della Meloni come va sarebbe un comportamento molto poco raffinato ed elegante, infatti ci dice che è raffinato ed elegante, cioè lui insulta la Meloni va bene, quando la Meloni ripete il suo insulto diventa raffinato ed elegante come per deriderla. Poi dice che lui non aveva mica sentito che la Meloni si autodefiniva str, non l'ha sentito, ha solo sentito come va e lui ha risposto bene, benvenuta, ecco, e che poi lui non ha mai detto che la Meloni sarebbe andata a fare una passeggiata elettorale a Caivano. Quindi, caro De Luca, se tu offendi pesantemente la Premier, devi poi avere la schiena dritta nel mantenere le offese, cioè o non offendi o se offendi devi poi mantenere la tua offesa. Dire sì, l'ho offesa, secondo me è così, è una strana. Ci faresti una figura migliore che dire poi, ah ma io non ho sentito, ah ma io avevo detto un'altra cosa, ah ma era una conversazione privata che hanno fatto uscire. Devi mantenere quello che dici. Dici una cosa, devi dire sì, io penso quello, io lo penso. E invece no. E poi le cose vanno dette anche in faccia. Non si dicono il giorno dopo a dei microfoni e a delle telecamere. Quando la Meloni ti ha detto così, tu dovevi rispondere subito. Eh, non il giorno dopo. Noi facciamo delle figure proprio un po' così, eh, Vincenzi? Eh dai, su. E poi arriva l'accusa che ho sentito, che ho sentito anche da altri commentatori. Dicono, ah, la Meloni, al posto che essere a Brescia a commemorare la strage, è scappata ed è andata a Caivano. Che cosa fa De Luca? Sente che qualcuno accusa la Meloni di questo e lo ripete. Dice ieri doveva essere a Brescia, non a Caivano. Allora, a Brescia si commemorava una strage. Bene. È andato Mattarella. Bene. La Meloni è andata a Caivano. Non è sufficiente che va a Mattarella a Brescia, doveva esserci anche la Meloni. Sta scritto in Costituzione. C'è qualche legge che dice a Brescia ogni anno deve andare il premier a commemorare la strage. Ma sapete quante stragi durante la seconda guerra mondiale, o prima o dopo, ci sono state in Italia? C'è una legge che dice che ogni anno il presidente del Consiglio deve andare insieme a Mattarella a commemorare tutte le stragi italiane? No. Può essere che il presidente della Repubblica vada da una parte in contemporanea, la Meloni da un'altra? Però le male lingue, chi è predisposto male verso la Meloni, ha colto la palla al balzo per dire la Meloni è scappata a Caivano per non andare a Brescia a fare i conti con la sua storia. Ecco, questa è l'accusa che ho visto ieri anche da parte di diversi commentatori che sono arrivati sul canale nuovi di sinistra, che sono i benvenuti, anzi arricchiscono il dialogo, insomma, a volte il dialogo è un po' così, però arricchiscono comunque il dialogo, sono assolutamente i benvenuti. Ricordatevi che sul canale potete commentare i fatti politici, potete scrivere quello che volete, vi assumete voi la responsabilità, quando insultate le persone vi assumete voi la responsabilità, io non sono responsabile di quello che voi scrivete sugli altri, assolutamente, ognuno è responsabile di quello che scrive. Ricordatevi, lo dico a quelli che arrivano nuovi, a quelli vecchi, io ogni tanto controllo, a campione controllo i messaggi, se vedo delle offese alla mia persona vi banno dal canale, cioè vi tolgo la possibilità di commentare, potete continuare a vedere i video, ma non potete più commentare i video. Ecco, questo è, quindi, dite le cose più orrende verso i politici, non me ne può fregare di meno, criticate politici di destra o sinistra, non mi interessa. Ricordatevi che c'è un algoritmo, che non so come funziona, ma alcuni messaggi, anche banali, inspiegabilmente, vengono cancellati dall'algoritmo. Inspiegabilmente. I messaggi dici perché? Non lo so, non lo so. Io non posso farci niente su c'è, c'è un algoritmo, quindi non c'è una persona che cancella dei messaggi, ma c'è un sistema computerizzato che fa delle valutazioni, c'è un'intelligenza artificiale che fa delle valutazioni e dice questo messaggio no. Poi tu guardi il messaggio, se riesci a guardarlo in qualche modo, e dici perché? Non si capisce. Tornando a De Luca, dice Ieri mi sarei aspettato innanzitutto una visita a Brescia, una data simbolo per il nostro paese. I campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento, quell'anniversario no, sarebbe stato doveroso andare a Brescia a rendere omaggio ai caduti a confermare l'impegno contro il neofascismo che ha tormentato l'Italia per decenni. Poi decida il suo programma la Presidente del Consiglio. Così De Luca rimprovera la Meloni per la sua assenza alla commemorazione dei 50 anni della stragia di Piazza della Loggia. Il botta e risposta tra il Governatore Campano prosegue quindi all'indomani della visita della Premiera a Caivano con quello scontro. De Luca ha parlato così a margine dell'inaugurazione del terzo meeting grandi ospedali presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Diciamo che a ogni azione c'è una conseguenza. La Meloni è davvero scappata a Caivano o no? Chi lo sa? Non ci avevo pensato a questa cosa, non ne ho idea. Non ne ho idea. Magari no o magari sì. Chi lo sa? Ci sono delle logiche che a volte noi non vediamo, non immaginiamo. Quindi davvero la Meloni è scappata da Brescia per inaugurare lo stesso giorno Caivano per non farsi vedere da quelle parti? Non lo so. Non ne ho idea. Forse no o forse sì. Chi lo sa? Arrivederci a tutti e grazie.